come al solito contingentati, quindi intanto benvenuti a tutti, benvenuti alla quindicesima edizione di Strati della Cultura, appuntamento nazionale dell'Arci sulle politiche culturali. Io sono Carlo Testini, coordinatore dell'area Cultura della Direzione Nazionale dell'Arci da qualche anno, quindi molti di voi mi conoscono. Allora, intanto chiederei a Roberta Cappelli di venire un attimo qui sopra con noi, che è la presidente dell'Arci di Ravenna, che ci ospita, ha messo a disposizione tutto il gruppo di volontari del comitato e sono ormai diversi mesi che stiamo lavorando insieme. E ovviamente un grandissimo grazie anche al Comune di Magna Cavallo, che ci ha dato gli spazi, ci ha consentito di organizzare questa bella edizione di Strati della Cultura. Darei la parola subito a Roberta per un saluto. Funziona? Sì, penso di sì. Ciao a tutti, è bellissimo vedervi qua così numerosi, perché ci sono state tantissime adesione a questa edizione, il segno che c'è tanta voglia di rivedersi e di scambiarsi opinioni e idee. Grazie. Abbiamo scelto Magna Cavallo all'interno della nostra provincia, potevamo scegliere anche Ravenna come luogo in cui svolgere le nostre attività, ma il segnale voleva essere quello di fare una cosa un po' a misura d'uomo. Per cui si poteva pensare che una volta che arrivavate qua, potevate girare e stare in questo bellissimo comune, in questa bellissima piccola città e godere di tutte le attività che ci sono, sia quelle di Strati che quelle che offre questo comune. È un comune molto vivace, anche culturalmente. Abbiamo cinque circoli in questo comune, nelle frazioni e in centro. La sindaca è una sindaca donna molto attenta alle dinamiche del suo territorio e a curarlo proprio perché rimanga a misura d'uomo e quindi questo ci ha fatto scegliere questo bel comune. Io vi ringrazio tantissimo per essere qua e spero che sia una bella esperienza. Grazie ad Arcina Venna, intanto faremo un sacco di applausi durante la giornata. Ovviamente grazie anche all'Arci Emilia Romagna che, come sapete, organizza appunto da 15 anni questo appuntamento con l'Arci Nazionale ed è fondamentale anche perché la Regione Emilia Romagna ci sostiene anche dal punto di vista finanziario. Quindi insomma siamo molto contenti che anche quest'anno siamo riusciti a organizzare questo appuntamento che tra l'altro è il secondo dopo la pandemia. L'altro anno eravamo a Parma e quindi diciamo ci ritroviamo per il secondo anno consecutivo dopo quel periodo veramente tragico. Il Presidente nazionale Daniele Lorenzi sta arrivando però diciamo noi cominciamo lo stesso per i motivi che vi ho già spiegato. A questo punto io chiederei a Flavia Barca, Annalisa Cicerchia e Sandra Loia. Non so in quanti ci stiamo, forse facciamo questa prima tornata con loro e poi dopo chiameremo anche Stefano Carmassi e Nicola Curtarelli. Iniziamo questa sessione. Come avete visto noi abbiamo chiamato tutta strada della cultura di quest'anno cultura dal vivo o dal divano con un grande punto interrogativo perché ovviamente in questi mesi, negli ultimi anni soprattutto, ci siamo interrogati molto su dove sta andando la fruizione culturale, la socialità di questo paese e guardando anche come diciamo si sono evoluti gli indici di partecipazione culturale in questi anni. Ovviamente la situazione non era buona, anzi era pessima durante la pandemia, molte cose sono migliorate in questi mesi, però la sensazione è che quel trend che già avevamo visto prima della pandemia sulla partecipazione culturale che quindi stava calando sempre più, soprattutto in alcuni settori, non in tutti, continua diciamo a essere non positivo. Quindi dalla fruizione culturale in quanto tale alla capacità delle organizzazioni culturali di rispondere anche a questa crisi della partecipazione culturale, ci siamo detti che dobbiamo fare una riflessione insieme a esperti e persone che lavorano in questo campo ormai da molto tempo per capire anche noi diciamo come rafforzare il nostro agire sui territori e dall'altra parte quali proposte portare al congresso nazionale dell'Arci che avremo dall'1 al 4 dicembre a Roma che sarà il momento più importante non solo per rinnovare gli organismi come facciamo ogni congresso, ma anche per definire un po' le strategie dei prossimi quattro anni in un quadro che non è felice perché adesso io ho parlato della fruizione culturale ma sappiamo che c'è una crisi economica importante, c'è una crisi delle famiglie ma anche delle imprese quindi ci saranno anche meno risorse a disposizione di tante attività culturali e c'è un aumento delle diseguaglianze molto forte e questo per quanto riguarda l'Arci è un elemento da tenere sempre presente proprio per il lavoro che facciamo sul territorio anche per dare la possibilità a persone che non sono particolarmente abbienti di partecipare alle attività culturali e alle attività sociali perché noi ci teniamo sempre molto a dire che i nostri circoli tengono insieme queste due dimensioni ed è la caratteristica se vogliamo dell'organizzazione di terzo settore Arci a Rete. Mi fermo qui, ho parlato pure troppo, qui con me ci sono Annalisa Circerchia dell'Istat che ci accompagna ormai da diversi anni nelle nostre riflessioni, c'è Flavia Barca economista della cultura, anche con lei siamo in diverse reti e sono ormai diversi anni che ci conosciamo e Sandra Loia della Fondazione Compagnia di San Paolo con la quale soprattutto alcune regioni del nord lavorano su molti progetti ma soprattutto molta riflessione sulla partecipazione culturale ma insomma è un'altra delle persone che coinvolgiamo spesso nei nostri ragionamenti. Darei la parola intanto ad Annalisa che ci farà un quadro di quello che si muove non diciamo esponendoci i singoli e i bruti numeri ma facendo ovviamente un ragionamento. Carlo grazie, ho visto lì l'orso pirata e ti pregherei siccome ti temo molto questa presenza due minuti prima che l'orso mi dia la zampata di avvertirmi. Allora grazie tantissime, sono molto felice di avere la possibilità di un appuntamento che appunto per me ritorna ed è molto significativo, diciamo è veramente qualcosa per me molto importante. I dati di cui vi posso parlare oggi sono dati che hanno... dunque io da che parte devo puntare... Ah, là, verso il computer lì. Verso il computer lì. Che però... aspetta eh. Scusami. Ok, qui adesso è tutto, anche qua si è bloccato. Va bene. No, no, guarda, non ti preoccupare, nel senso che ti accorgi a mano a mano. Allora, il primo punto, perché io vorrei andare direttamente a che cosa, quali politiche sostenere. Cioè vorrei arrivare a molto chiaramente a definire quali possono essere delle azioni su cui concentrare l'attenzione. Quello che vi voglio dire è che vi presento dati sulla partecipazione culturale e sulla mancata partecipazione culturale, ma i dati sono il risultato di uno sforzo che ormai va avanti dagli anni 90, unilaterale da parte della statistica ufficiale, in mancanza completa di una domanda istituzionale di informazioni. Mentre c'è un impegno importantissimo a conoscere come funzionano le istituzioni, i musei, le biblioteche e tra un po' anche gli archivi, che è cosa importantissima ed è giusta, mentre, diciamo, su questi punti c'è una domanda istituzionale, accordi, quindi la partecipazione culturale sembra orfana. Per cui i dati che io vi presento, che sono dati, come dire, buoni, sono dati seri, però sono dati che appartengono alla categoria, se mi passate il termine non tecnico, delle nozze coi fichi secchi. Cioè noi prendiamo informazioni, succede in tutta Europa, e tra l'altro l'Italia è un paese virtuoso dal punto di vista delle statistiche, ma non ci sono, se non in alcuni paesi ancora più virtuosi, e faccio riferimento alla Spagna, fuori dall'Unione ormai al Regno Unito, non ci sono indagini che affrontano il problema della partecipazione culturale. Allora, la storia è molto lunga. L'Italia non ha avuto mai un Ministero della Cultura fino adesso al governo Draghi, che ha cambiato il titolo. L'organizzazione interna non è particolarmente cambiata. I motivi sono anche seri, perché l'ultimo Ministero della Cultura che abbiamo avuto si chiamava Ministero della Cultura e della Propaganda, e non era una cosa simpatica. C'erano nel Paese fortissime resistenze, nel mondo cattolico, nel mondo liberale, nel mondo comunista, contro una cultura di Stato. Quindi non è stato un capriccio. Purtroppo il settore è stato totalmente non presidiato. Allora, quello che io vi presento è una storia che ha sì un punto particolarmente basso in corrispondenza della pandemia, ma che mostra una marginalità totale e continua. Questo poi è il discorso al di là dei singoli numeri che io vi potrò dare. Ora io qui vi faccio vedere che cosa sappiamo della partecipazione culturale. Noi sappiamo delle cose che derivano soprattutto da una grande indagine che fa l'ISTAT, che si chiama Indagine Aspetti della Vita Quotidiana. È un'indagine di cui andiamo molto fieri, però la chiamiamo in famiglia Multiscopo, perché è un contenitore enorme di tante cose. Allora pensate che il questionario della Multiscopo contiene 560 quesiti. Ti chiede tutto, 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 da che cosa mangi a come ti senti nei confronti dei vicini, tutto veramente, però le domande che riguardano la cultura sono 20, 560, 20. Il che significa che il grado di approfondimento che è possibile attraverso questi, che sono dati serissimi, ogni anno sono coerenti, sono controllati, quindi la qualità è molto elevata, è che il focus necessariamente è un focus molto generale. Quindi il problema è che noi non solo non abbiamo, se non quella fonte, e in tanti anni non c'è stato Ministro della Cultura o dei beni culturali che ci abbia chiesto di lavorare insieme per definire delle cose, per sapere. Oltretutto questi dati, è come se parlassero al vento. Quante volte abbiamo sentito, ci siamo detti, che i giovani non partecipano. Non è vero, sono quelli che hanno i tassi di partecipazione più elevati. Il dramma del nostro paese è quello degli anziani soli e soprattutto donne che calano a una partecipazione del 9%, non so se avete idea. Su 100 persone anziane con molto tempo a disposizione, 9 partecipano. Andiamo avanti, perché la spesa nel tempo è stata sempre marginale. Allora, sulla spesa anche qui. Noi ci attacchiamo un po' a quello che possiamo per cercare di capire questo mondo. Non tutto quello che è partecipazione culturale si paga. Ed è chiaro che rispetto al tema che discutiamo oggi, l'accelerazione che noi abbiamo avuto durante soprattutto il lockdown ha virato verso un abbassamento dei costi. Uno, perché le persone si sono abituate a consumare molte cose gratuitamente o in modo molto meno costoso. Costa praticamente un mese di Netflix, costa più o meno quanto un biglietto del cinema. Dipende poi se il sabato o la domenica in una grande città, siamo lì, grossomodo. La barriera però, guardate, non è mai di tipo unicamente economico. La barriera, come noi abbiamo visto a più riprese, è di tipo cognitivo. Perché gli italiani, che adesso purtroppo si stanno molto impoverendo, hanno risparmiato nell'impossibilità di consumare molte cose durante la pandemia. Hanno diretto però i loro consumi in un'altra direzione. Ma semplicemente perché non c'è una politica della domanda. E soprattutto, se mi posso permettere, non c'è una politica della cultura come servizio territoriale essenziale. Nel 2015, forse qualcuno si ricorderà, 3.500 turisti rimasero fuori dal Colosseo perché c'era un'assemblea sindacale che fece infuriare sindaco, presidente del Consiglio, ministro della Cultura. Al punto di due giorni dopo uscì fuori il cosiddetto decreto Colosseo che regolamentava il diritto di sciopero nei patrimonio culturale, che era un diritto essenziale. Fantastico. Se solo fosse vero, cioè se solo questa cosa fosse il ponte che consente di passare dal riconoscimento della Costituzione, del diritto alla cultura, in un diritto che si traduce in servizio. La barriera fondamentale che noi abbiamo nei confronti della partecipazione del consumo culturale è che non è sostenuto da politiche. Tanto è vero che la scuola, i consumi, ecco una cosa che vedete qui, i consumi che sono stati sostenuti dalla scuola sono stati distrutti durante la didattica a distanza, adesso stanno riprendendo, dove la scuola non arriva, le famiglie non possono dare una risposta importante. Andiamo avanti molto velocemente perché credo di avere pochissimo tempo a disposizione. Andiamo oltre la spesa delle famiglie. Lasciamo perdere la spesa perché appunto la partecipazione culturale fuori casa, che è quella di cui parliamo, di questa grande assente, ovviamente ha risentito enormemente delle chiusure, ha risentito della concorrenza di opportunità, di fruizione e di consumi sostitutivi. Dicevamo con Carlo, noi non abbiamo dati ancora molto solidi, però ci stiamo lavorando. È evidente che nella socialità la partecipazione è comune a esperienze culturali, vediamoci e andiamo insieme al cinema, sta progressivamente perdendo terreno a favore del vediamoci e andiamo a mangiare, andiamoci a prendere un aperitivo. Cioè c'è una cosa che è anche collegata, è un circolo vizioso, che è collegato alla difficoltà di andare soprattutto nelle realtà non metropolitane a vedere un film perché devi prendere la macchina e fare 20 chilometri. Ci sono proprio delle difficoltà. Questo per esempio taglia fuori gli anziani in maniera drammatica, non solo da noi ma un po' in tutti i paesi. Allora, io qualche numero ve lo do. Vi dico semplicemente che ci sono voluti 26 anni perché il numero di, diciamo, la percentuale di residenti in Italia, al di là della loro nazionalità, che erano andati almeno una volta a vedere un museo, passasse da, cioè guadagnasse 9 punti. 26 anni. E ci siamo fermati sotto la soglia, nel momento d'oro, che è stato quello del 2019, ci siamo fermati sotto la soglia del 33%. Non ci siamo arrivati. Quindi meno di una persona che vive qui, su tre, ritiene interessante, possibile, parte dell'uso del suo tempo, andare al museo. La barriera non è economica, perché la metà dei musei italiani è gratuita. non è quello. Se andiamo a vedere altri tipi di consumi, come la musica classica, ma lo stesso cinema e la lettura di libri, cioè delle cose in cui la barriera economica è veramente trascurabile, noi vediamo che non raggiungiamo, nel caso del cinema, raggiungiamo appena la metà della popolazione. Nel caso della lettura non arriviamo a metà dei residenti che dicono di aver letto un libro una volta all'anno. Vabbè, tutto questo è per dire, a parte il fatto che io vi lascio questi dati per chi vorrà esaminarli. Noi facciamo spesso un profilo in controluce che è quello della non partecipazione. Chi sono e dove stanno quelli che non partecipano. In pratica la non partecipazione comincia a mettere radici con l'arrivo dell'età adulta e si aggrava, ma non è legato al lavorare, si aggrava durante l'età anziana. Se le famiglie sono, come i nostri dati confermano, l'unica scuola di iniziazione alla cultura, l'ascensore sociale è fermo. Perché vorrei dire che i figli di quelli che amano il teatro continueranno a amare il teatro, quelli che il teatro neanche sanno che cosa sia continueranno a non saperlo. La scuola è un mediatore potente, ma la scuola non può caricarsi tutto. E quello che manca a questo appello è il territorio. Io non vi sto facendo, non vi sto dando le informazioni dettagliate sulle differenze territoriali, ma noi abbiamo un divario mostruoso tra centro-nord e mezzogiorno e soprattutto abbiamo dei dati sulla Sicilia, non sulle isole, perché per esempio la Sardegna è anomala per la lettura, è uguale alle performance che ha il centro. Noi abbiamo un deserto in intere regioni e abbiamo tutto il problema delle aree interne che bisogna ricordarsi sono una caratteristica portante del nostro paese. Tutto questo per dire che cosa? Che è necessaria rivendicare una politica culturale territoriale fatta di servizi di cittadinanza che non possono essere totalmente diversi in Molise rispetto alla provincia di Bolzano. Noi abbiamo uno scarto, anche su dati sciocchi, come la spesa pro capite dei comuni per attività culturali, che vanno da meno di 3 euro in alcuni comuni siciliani a 40 euro a Bolzano. Non è possibile. Non è proprio possibile che se abbiamo fatto il bel gesto di dichiarare che i servizi culturali sono servizi essenziali, ci sia una disparità sul territorio di questo tipo. L'accesso ai servizi culturali, la partecipazione culturale, poi la partecipazione vuol dire tante cose, io rivendico anche la pratica, il fatto di suonare in una banda, di cantare in un coro, di suonare la chitarra, di dipingere, cioè di esprimere se stessi attraverso tutta la gamma di mezzi e di strumenti e di dimensioni che offrono la cultura e l'arte. Hanno, per finire su una nota su cui siamo molto vicini e molto paralleli, dei riflessi diretti sull'aspettativa di vita in buona salute. diretti sull'arresto, sull'invecchiamento attivo, sul fermare il decadimento cognitivo, sul garantire il trattamento dello stigma, perfino la gestione di malattie rare, ma in generale sul modo e le chance che si hanno di vivere meglio. Allora, la questione non è decorativa e io, dopo aver mandato bordate di cannone al Ministero, perché secondo me il problema di non unificare gli standard di prestazione della cultura è una responsabilità centrale, me la prendo, diciamo, anche con un atteggiamento del settore, su cui non c'è tempo di parlare, che però è stato, per mille motivi, uno, molto paralizzato, e quindi incapace di risposte dinamiche, di adeguarsi alle richieste che emergevano, e due, io credo in fondo il primo a pensarsi come ornamento, perché se il settore avesse una fortissima coscienza della natura fondamentale, indispensabile, essenziale del lavoro che fa, non ci saremmo trovati in questa paralisi e anche questo blocco, questa, come Vico Iota, quando scende giù per il canyon, tenendosi per le unghie, questa scivolata in giù, in parte, non del tutto, è comunque legata a una visione di se stessi non essenziale, cioè alla fine come di una cosa che attiene alla spesa discrezionale, al tempo libero, a se si può, se sistemate, si diceva sovrastrutturale un tempo dalle parti mie. Mi fermo, grazie moltissimo. Grazie mille, Annalisa, ci hai dato un sacco di elementi di riflessione, ovviamente, insomma, quando tu parli del impatto sulla salute, noi diciamo spesso che lavoriamo in questo ambito proprio per migliorare il benessere delle persone, per far stare meglio alle persone, anche se siano giovani o anziani, e l'altro elemento che volevo solo sottolineare è che hai perfettamente ragione che molti operatori culturali, forse meno nel dentro l'arci, però ecco, non si sentono, non sentono di avere un ruolo pubblico facendo il loro lavoro e questo effettivamente è un grosso problema. Darei la parola Flavia Barca, vediamo se riusciamo, grazie Annalisa. Io mi metterei in piedi perché così vedo, se mi dotate di un allora, vediamo se riusciamo. di quel magico strumento. Cosa? Non funziona? Ah vabbè, quindi mi dispiace, ci dovremo ci dovremo sintonizzare. Devi parlare vicino al microfono Flavia. Sì, 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 pronto. Va bene, pronto. Eccoci. Allora, ovviamente andiamo avanti. Allora, questo è un po' il senso del mio intervento. Il passaggio non è dal vivo al divano, usando una locuzione che era stata usata nelle riflessioni di partenza, ma dal collettivo, dal vivo all'individuale in rete. Ovviamente è una semplificazione, però io credo che sia un punto fondamentale su cui vi invito a ragionare oggi. Il mio intervento è diviso in due parti. Una prima parte analizzerò un po' il contesto di riferimento in cui ci muoviamo e che, diciamo, già molto chiaramente ha illustrato Annalisa con i numeri e poi vi darò qualche elemento di prospettiva, quello che secondo me sono i punti chiave su cui dovremmo insieme ragionare e confrontarci. Andiamo avanti. La premessa, questo è solo per ricordarci, ma partendo in qualche modo dall'ultima riflessione nell'intervento di Annalisa Cicerchia che la partecipazione è un termine e un concetto in sé complesso e ricordiamo che in qualche modo la partecipazione è un punto di arrivo e non un punto di partenza. Partecipazione culturale vuol dire tante cose. Oggi sempre di più non solo come intento di politica pubblica ma anche come naturale evoluzione dei processi culturali sempre di più è fondamentale che la cultura sia partecipata e che quindi non sia un processo unidirezionale ma questo fa parte della trasformazione e ne parleremo tra un attimo. Andiamo avanti. Ok, processi in corso. Allora, il primo tendenza di cui voglio così segnalarvi è quella della smaterializzazione. Annalisa vi ha già raccontato i numeri, c'è un cro della spesa media mensile familiare, c'è una flessione del settore culturale creativo e c'è parallelamente un forte aumento nell'uso della rete. Io magari ti alzo la mano. Questo processo per esempio in alcuni settori come l'audiovisivo è un processo molto forte. Certo, nell'audiovisivo ci sembra quasi normale perché poi lo viviamo tutti costantemente c'è una forte spostamento dai luoghi e gli spazi dove l'audiovisivo veniva fruito collettivamente fuori di casa agli spazi indoor. Andiamo avanti. No, no, no. Sì, scusa. È interessante però come questo processo tocchi altri settori in cui il processo è meno scontato. intanto alcuni ambiti della lettura in particolare voi lo sapete lo viviamo tutti i giorni quotidianamente la lettura dei giornali cioè c'è una forte contrazione la lettura e sempre di più non solo fruiamo dei giornali online ma fruiamo in generale dell'informazione online il giornalismo è fortemente in crisi potremo fare diciamo organizzare un incontro una relazione solo su questo ma è importante che puntualizziamo questo processo che tocca in un modo o in un altro tutti i settori per esempio il settore delle biblioteche è molto interessante vedere i dati di Istat anche sul processo di smaterializzazione della fruizione per esempio delle biblioteche in cui parallelamente a un crollo delle presenze fisiche c'è invece fortemente un ritorno di presenza online e quindi una ricerca di strumentazione con quelle biblioteche che hanno messo effettivamente la possibilità di fruire dei loro contenuti online crolla la partecipazione a eventi e spettacoli fuori casa lo sappiamo diciamo i dati della pandemia sono per certi versi abbastanza scontati no? li ha già raccontati Annalisa quello che è più interessante e significativo da discutere oggi è il proseguimento del trend nella fase successiva per esempio sono molto interessanti i dati SVG riguardanti il settore cinematografico che mostrano come il primo semestre del 22 registra una marcata flessione sul 2019 sia nell'ampiezza della platea quanto nella frequenza col quale il pubblico si reca in sala c'è anche i fruitori regolari oltre a quelli saltuari vanno molto meno che cosa significa secondo le analisi di SVG che un 21% di italiani che con la pandemia ha smesso di andare in sala e un 10% ha ridotto la propria frequenza di fruizione sono dati molto importanti e molto rilevanti diciamo sia proprio su quello che riguarda le abitudini di fruizione sia ovviamente sugli economics del settore quindi che cosa significa che la partecipazione in formato indoor ad attività come ci racconta Istat ad attività notoriamente outdoor lo sport il teatro il cinema i musei eccetera sarà una modalità di fruizione nel tempo libero che probabilmente rimarrà anche quando la pandemia sarà del tutto superata e affiancherà il modo tradizionale con cui molte pratiche culturali vengono svolte ma ancora più interessante e vi sottolineo questa cosa qualunque ostacolo alla fruizione outdoor fatica lontananza costi si traduce più facilmente in uno scambio di modalità questo elemento esce molto chiaramente che già segnalava Istat esce molto chiaramente da questa indagine di SVG perché cosa ci racconta SVG interrogando la popolazione ci racconta che un 20% di persone afferma di non essersi regate in sala perché ha perso l'abitudine perché non ci pensa più un 15% è andare in sala e infine un 15% si dichiara insoddisfatto dice ma forse è un problema di qualità questi sono dati molto interessanti perché ti danno la forza di una tendenza che veramente sembra una tendenza irreversibile andiamo avanti ok 8 minuti si si consumi sempre più individuali questo processo se ci pensate non è solo un processo che da odore diventa un dore ma è un processo da una frizione e un'abitudine collettiva ad una frizione e un'abitudine individuale allora io segnalo sempre perché poi dobbiamo stare molto attenti quando facciamo queste affermazioni che per molti soprattutto per le fasce giovanili il concetto di individuale e rete non sono nettamente uguali non collimano perché molto spesso nella fruizione per esempio delle fasce giovanili in rete si ritorna comunque ad una fruizione che è collettiva non solo collettiva per esempio nei videogiochi dove si gioca insieme o ha tante altre forme di gioco ma spesso perché comunque il consumo che sia il consumo dei film eccetera diventa uno strumento strumento comunque di condivisione attraverso una visione multi device se no tu guardi il film nel frattempo chat con gli amici scambi i commenti quindi il mondo sta cambiando in modo molto più sottile e dobbiamo stare attenti nelle nostre analisi renderle più sofisticate andiamo avanti permangono forti le diseguaglianze l'ha ricordato Annalisa non mi fermo ma continuano a essere fortissimi i dati di indivare il nord sud ma soprattutto anche continua ad essere determinante il titolo di studio questo ci invita una grande attenzione e pensando a tutto l'utilizzo indoor c'è un elemento fortissimo di diseguaglianza ancora nell'uso della rete nelle aree interne come diceva Annalisa ma per esempio soprattutto anche nelle questioni di genere tra uomini e donne andiamo avanti il prosumerismo ma questo diciamo lo sappiamo bene tutti cambia completamente l'uso e il modo di rapportarsi ai contenuti sempre di più noi vogliamo contenuti con i quali possiamo interagire con i quali possiamo co-creare con la quale possiamo in qualche modo diventare noi stessi produttore e creatore e di questo diciamo nei processi di offerta non possiamo non tenerne conto andiamo avanti è interessante questo elemento ce lo racconta molto chiaramente un rapporto di Ox è molto interessante cambia completamente la distinzione tra cultura alta e cultura bassa anche su questo potremmo organizzare una conferenza solo ragionando di questo che è un tema che questa platea diciamo tocca moltissimo ma non può essere fuori dai nostri ragionamenti la partecipazione diventa sempre più una variabile della politica culturale ma questo diciamo è un vecchio gioco sulla cultura nessuno si occupa della cultura ma poi in realtà la cultura incide fortissimamente anche sempre di più nei processi politici al momento poi comunque si usa la cultura come strumento non solo di partecipazione territoriale non solo di ragionamento e di polisi territoriale ma anche a livello nazionale c'è sempre questo doppio gioco andiamo avanti questo è un dato molto interessante anche qua potremmo discuterne ore il forte legame tra consumo culturale e investimenti pubblici insomma non dobbiamo dimenticare che la crisi della partecipazione culturale è vero c'è la trasformazione digitale è vero c'è stato il covid eccetera eccetera ma coincide anche nell'ultimo decennio in modo assolutamente netto e lineare con un disinvestimento di circa un miliardo di euro in termini di risorse pubbliche statali e locali e questo diciamo se lo pensiamo riportato con i dati euro stati a livello europeo lo vediamo molto bene perché poi all'investimento culturale molto più forte di altre regioni europee corrisponde anche e a cui corrisponde diciamo una partecipazione culturale più elevata a noi a un disinvestimento in cultura corrisponde anche a un calo della partecipazione culturale andiamo avanti cresce la partecipazione culturale delle donne anche questo è un dato molto interessante di cui terremo conto e ne parliamo più avanti in sintesi il passaggio non è dal viva al divano ma dal collettivo dal viva all'individuale in rete rimarranno i grandi riti collettivi in presenza i festival i grandi eventi ma quello che sarà possibile consumare individualmente o individualmente in rete sarà in gran parte sostituito quali sono i grandi rischi crisi della filiera legata ai settori culturali e creativi cioè siamo noi che siamo qui e ne parliamo ma anche ma anche frammentazione sociale e polarizzazione questo è un tema fondamentale che ci riguarda di cui in qualche modo moltissime dei soggetti che sono qui oggi rappresentano un presidio fondamentale quindi come arginare questo processo promuovendo coesione sociale come prepararsi a un presidio democratico della rete sì sì lo dico veloce poi magari se ci sono delle cose ci torniamo andiamo avanti questa va beh la filiera niente ma ve la racconto un'altra volta prospettive allora cinque punti uno bisogna lavorare per costruire nuova socialità sul digitale allora va pensato un internet democratico questo è un tema fondamentale perché nessuno a livello pubblico nazionale si occupa sufficientemente del tema che va ripensato lo spazio pubblico su internet cioè internet e la rete non può essere lasciato in mano alle multinazionali va costruita una grossa riflessione su questo vi dico solo pensiamo ai Zarte molti di voi lo conosceranno quello è un progetto in cui in qualche modo la razza di partenza poteva essere sensato ma è fallito completamente nel metodo per tante ragioni di cui potremmo stare a discutere per ore ma quella roba lì potrebbe avere un senso torniamo indietro e ripensiamo a progetti così vanno ripensati gli spazi d'uso della collettività questo è un tema che conosciamo bene c'è tutto il tema della rigenerazione a fine culturale il co-working il co-housing l'importanza oggi strategica è di ripensare gli spazi che è anche esploso dopo la pandemia poi tre ripensare gli eventi dal vivo puntando su un'offerta valore aggiunto allora entriamo un po' nel vivo della carne anche se ve lo racconto in un nanosecondo uno vanno di più pensati servizi dedicati a target significativi come i giovani gli anziani le donne cioè pensiamo costruiamo costruiamo un dialogo con le persone che serviamo guardiamo meglio negli occhi il nostro pubblico poi bisogna innovare bisogna innovare sulla base dei propri pubblici questo ormai diciamo se non si innova è il declino quindi che cosa vuol dire i tempi dell'offerta ma si sa su questo c'è un grosso dibattito in corso le modalità ha per esempio un'offerta che crea aggregazione prima e dopo l'evento pensare questo come elemento strategico no al racconto che cosa crea il nostro racconto il contesto sociale le condizioni del territorio in cui si innesta l'offerta troppo spesso un'offerta arriva in un territorio che non c'entra niente con il quale non dialoga quattro innovazione di contenuto in chiave di maggiori risposte ai bisogni ma anche di prosumerismo allora qui c'è un elemento interessantissimo che fa SVG no riferendosi al segmento di fruttori di cinema che hanno diminuito la frequenza giovanissimi più istruiti residenti nei grandi centri che fanno un uso intenso delle piattaforme OTT per la visione del film si tratta di fatto del segmento più ricettiva l'idea di rientrare di uscire fuori outdoor quindi sensibile rispetto alle nuove offerte guardiamo offriamogli qualcosa di nuovo a quel target lì che potremmo forse riportare fuori di casa quattro è quasi finito giuro ripensare il senso dell'educazione culturale popolare questo tema dell'educazione popolare non potevo non coglierla chiaramente nella provocazione del documento di partenza questo è fondamentale lavorare su tutta la filiera diciamo Annalisa ha detto molto bene no diciamo lavorare sulla e costruire politiche di partecipazione culturale sui territori è una strategia politica fondamentale io credo che vada e so che questo è un tema con cui con Carlo ne abbiamo parlato tantissimo in primis guardando al ministero della cultura bisogna aprire una nuova stagione di pregettazione che sia meno preoccupata della rendicontazione economica e più degli obiettivi sociali e culturali da raggiungere la potremmo chiamare il post PNRR ovvero PPNRR chiaramente diciamo sto giocando ultimo punto e qua diciamo la butto la butto entro veramente in un territorio che per me è minato ma insomma quindi lo dico ad Annalisa lo lascio ad Annalisa forse anche le statistiche devono adattarsi alla trasformazione e diventare più granulari e forse è arrivato il momento di intercettare meglio bisogni e desideri perché dobbiamo valorizzare la diversità ad esempio se la partecipazione è ora simile perché finalmente donne e uomini abbiamo visto che i dati collimano ma siamo sicuri che le aspettative sono le stesse siamo sicuri che le donne e gli uomini hanno desideri uguali e quindi questo è un bel tema da approfondire grazie mille grazie Flavia grazie davvero un sacco di cose interessanti il nesso tra partecipazione culturale democrazia e partecipazione civica sappiamo che è strettissimo e su questo appunto la compagnia sono anni che cerca insomma di lavorare soprattutto sul territorio ma anche da un punto di vista così di elaborazione quindi io darei subito la parola a Sandra Loia ringraziandola ancora di essere qui con noi e sarò anche qua cattivo con i tempi ma tanto in verità ha già detto tutto Flavia e io posso soltanto dire che se lo si fa funziona nel senso che quello che possiamo dire è effettivamente che stiamo provando a fare queste cose nei territori di pertinenza di Compagnia San Paolo per cui lo dico perché evidentemente è indicativo il fatto che stiamo lavorando su Piemonte Liguria e Valle d'Aosta perché appunto è lì che la compagnia opera e infatti io mi ero segnato sostanzialmente parto così dalla fine cinque punti che secondo noi sono fondamentali perché le cose in qualche modo funzionino è un accompagnamento musicale allora e ho segnato dati ho segnato alleanze territoriali ho segnato l'apertura delle comunità cioè che le comunità cerchino di essere sempre aperte e non chiuse ho segnato nuove competenze nuove professioni e ho segnato delle buone pratiche e allora qui e quindi in qualche modo ho ritrovato questi punti tra le cose che ci ha raccontato Flavia e che partono in verità dal quadro che ci diceva Annalisa si sente? scusate così guarda così faccio prima allora quindi intanto io volevo raccontare degli aspetti positivi allora i dati che ci sono stati raccontati sono pressoché drammatici però mi piacerebbe raccontare anche il fatto che se noi guardiamo ai dati e quindi arrivo al mio primo punto ai dati che abbiamo come compagnia rispetto ai festival i festival ad esempio dopo la pandemia dopo insomma da un certo punto in avanti da quando si sono potuti rifare i dati non soltanto sono uguali a prima ma addirittura stanno crescendo altro pezzo lavoriamo insieme a moltissimi spazi di partecipazione centri di aggregazione case del quartiere nuovi centri culturali circoli eccetera anche lì i dati stanno non soltanto in alcuni casi ritornando ai dati pre pandemia ma in molti casi li stanno superando quindi che cosa stiamo notando? che in verità forse quello che sta capitando è che la partecipazione dal vivo si sta un po' polarizzando e che quindi da una parte c'è un gran desiderio di ritornare alla socializzazione e quindi a socializzare la cultura se vogliamo rimanere ancorati al tema della partecipazione culturale mentre dall'altro abbiamo visto attraverso i canonici luoghi e i canonici consumi culturali invece il crollo allora stiamo provando a ragionare su questa polarizzazione e come dire quello che stiamo capendo e non è che ci volesse molto tra l'altro parlandone con voi mi pare presto che è tautologico che evidentemente quando la cultura è uno strumento che serve come bene relazionale allora a questo punto non è così difficile riuscire ad alimentare i processi di partecipazione culturale devo fare però un'annotazione cioè noi lavoriamo sulla partecipazione attiva cioè non lavoriamo sulla partecipazione to cure ma su quella attiva e quando parliamo di partecipazione in questo caso quindi il nostro lavoro è proprio quello di cercare di lavorare sulla partecipazione in due sensi uno è quello di partecipazione come essere parte e l'altro è partecipazione come prendere parte che sono due modalità diverse di intendere la partecipazione attiva da una parte l'essere parte ovviamente è parte di un qualcosa di un'organizzazione laddove c'è un'incorporazione attiva sociopolitica rispetto appunto ad un'organizzazione ad un'istituzione l'essere parte poi c'è anche invece il prendere parte prendere parte quindi a dei processi a dei processi che sono processi ovviamente decisionali quindi ne parlavamo in macchina con la mia collega mentre venivamo su e ci dicevamo ma come mai appunto il divano sta vincendo rispetto invece la partecipazione dal vivo e lei giustamente mi raccontava diceva che comunque quando sono su qualche piattaforma mi conosce meglio mi propone cose che già mi piacciono i famosi algoritmi eccetera bene probabilmente così parliamo del tema dei dati avere dei dati che aiutano in una relazione da uno a molti e che quindi nel termine terrificante viene chiamato customizzazione però se ci pensate è anche un po' quello che fate voi all'interno dei circoli in qualche modo cioè conoscere le persone con cui avete a che fare vi aiuta in qualche modo a creare anche un'offerta di servizi oltre che di prodotti culturali che vanno incontro ad una domanda che è già esistente allora da questo punto di vista appunto il lavoro che stiamo facendo con Arci Torino sull'utilizzo di una tessera digitale per esempio aiuta in questo senso a conoscere meglio una vastità perché se si parla di un piccolo circolo ovviamente conoscete uno a uno probabilmente la maggior parte di voi conosce nomi e cognomi delle persone che frequentano ma comunque in qualche modo grazie mi arrivano i suggerimenti del tempo ovviamente questa quando c'è invece un rapporto da uno a molti avere una una diciamo descrizione statistica aiuta molto di più l'altro pezzo che vi avevo raccontato che vi avevo diciamo annunciato è il tema delle alleanze territoriali non si lavora da soli perché stanno funzionando delle cose che stiamo mettendo in campo e perché funzionano gli spazi di partecipazione anche quando si cerca di proporre un'offerta culturale degli stessi enti che sono gli enti che hanno un calo della partecipazione perché quello che stiamo provando a fare in questo momento è esattamente questo cioè provare a portare i grandi attrattori culturali all'interno degli spazi di partecipazione proprio per quell'elemento di relazione che gli spazi di partecipazione hanno con il territorio in cui sono inseriti un elemento fiduciario per cui in qualche modo non dobbiamo distinguere l'alto con il basso ma si può proporre un'offerta anche diciamo di estrema qualità all'interno proprio attraverso la mediazione degli spazi di partecipazione qui quindi arrivo alla questione delle nuove competenze e delle nuove professioni sta cambiando moltissimo il lavoro sui territori e non è pensabile farlo senza aggiornarsi senza capire quali sono le nuove competenze che devono essere messe in campo o chiamare delle nuove competenze perché non si può essere dei superman e delle wonder woman ma bisogna probabilmente avere la capacità di capire quali sono le competenze che bisogna andare a cercare anche a chiamata oppure delle nuove figure che devono essere inserite all'interno di questi spazi di partecipazione per riuscire a creare quelle alleanze territoriali a cui facevo riferimento prima per chi lo conoscesse l'articolo 118 della Costituzione è esattamente quello che chiede purtroppo viene chiamato in un altro modo ma se si chiamassero alleanze territoriali di coprogrammazione e coprogettazione sarebbe molto più semplice interpretarlo ma ci arriveremo l'apertura delle comunità cioè fare attenzione che attraverso dei meccanismi anche di governance queste comunità siano delle comunità aperte e non chiuse perché altrimenti invece di essere delle comunità inclusive diventano totalmente esclusive e da questo punto di vista la modalità in cui gli spazi di partecipazione tutti si organizzano per far prendere parte ai processi decisionali riesce in qualche modo a creare quella essere parte il prendere parte ampliato il più possibile sulle buone pratiche finisco le buone pratiche allora te le elenco così sono veloce allora quando noi abbiamo iniziato a lavorare su questi temi le avevamo un po' clusterizzate avevamo detto appunto individuare e coinvolgere i beneficiari nelle governance e nei processi modalità diverse dagli young board senior board eccetera fino a inserire all'interno in modo forzoso all'interno delle assemblee e dei direttivi insomma a seconda di qual è il tipo di ente tutto quello che viene chiamato co-staff quindi co-gestione co-progettazione co-programmazione tutti questi aspetti sono un altro modo di riuscire a esplicitare un essere pare o un prendere parte l'altro è creare delle nuove liturgie del consumo culturale come ha anche citato prima Flavia quindi andare incontro alle esigenze attraverso i dati con nuovi luoghi e tempi del consumo culturale penultimo il capacity building ma ve ne ho parlato diciamo molto velocemente prima e il più complesso è quello dello sviluppo delle comunità attraverso la cultura quale leva di coesione quindi cercare attraverso la cultura di fare sviluppo territoriale attraverso quelle alleanze che ci dicevamo prima credo di aver finito ciao grazie grazie davvero io mi scuso per fare così l'antipatico ma allora grazie davvero ho anche qui tantissimi tantissimi spunti importantissimi e tra l'altro su appunto la costruzione di comunità attraverso processi culturali attività culturali eccetera direi che siamo uno dei soggetti non solo più importanti ma che hanno anche una serie di competenze che vanno ovviamente sempre aggiornate e questo diciamo è uno degli scopi poi di questi appuntamenti nazionali che facciamo sulle politiche culturali e su questo chiederei di venire qui con me a Daniele Lorenzi presidente nazionale dell'Arci che ha ascoltato tutto con grande attenzione quindi adesso sei preparatissimo a Stefano Carmassi dell'Arci Toscana che eccolo là e a Curtarelli dell'Arci di Piacenza eccolo e quindi a questo punto diciamo passiamo velocemente a due interventi su le pratiche dell'Arci durante pandemia post pandemia prima della pandemia comunque due buone pratiche dell'Arci e poi chiediamo a Daniele un commento anche di quello che ha sentito non so se ci sarà il tempo per fare un altro giro però insomma adesso vediamo chi vuole iniziare Stefano ok no allora Curtarelli vai Nicola sì sì anche perché qui se vengono dette ancora 3-4 cose poi rimane io sarò molto più breve vi faccio recuperare un po' di tempo nel senso che insomma ho sentito già veramente sviscerare il tema in lungo in largo sono tra l'altro contento che ci sia questo approccio relativo alla raccolta di dati informazioni perché noi poi siamo nei circoli nelle associazioni tutti i giorni e quindi possiamo verificarli possiamo metterli in pratica ma è importante che la base ci sia che è